Una battaglia durissima, durata 30 anni. Raccolta firme, appelli alle istituzioni, interrogazioni parlamentari. Il recupero del Teatro Romano di Teramo ha mobilitato per oltre un ventennio cittadini e personalità del mondo della cultura a livello nazionale. Ora ci siamo. Anzi, dovremmo esserci. Il Comune di Teramo ha infatti ottenuto un finanziamento aggiuntivo di circa 8 milioni di euro, che sommati a quelli già in cassa permetteranno di portare a termine la riqualificazione dell'opera. Il Sindaco d'Alberto annuncia che entro il 2021 partirà il cantiere per la demolizione dei palazzi Adamoli e Salvoni. L'associazione culturale Teramo Nostra è stata tra le più attive nel condurre questa battaglia. Il recupero di questo Teatro Romano cosa significherà per la città di Teramo? È un passo significativo del recupero intanto della nostra memoria storica. Questo bene che è stato capito dalla maggioranza della popolazione, perché noi abbiamo promosso due volte le raccolte firme. Quando c'era la nostra vicepresidenta Anna Pepe, in una settimana raccogliemo 9 mila firme. E adesso con i quartieri ne abbiamo raccolti 5-6 mila. Però questo è importante per spingere di più l'istituzione ad impegnarsi. Come a Teramo Nostra, seguiteremo ad essere sempre vigili e presenti. Noi non siamo né architetti né abbiamo solo l'interesse per la città. Ma lei come se lo immagina questo teatro recuperato? Noi ce lo immaginiamo fruibile, anche se in piccolo, come l'Arena di Verona, come lo Sferisterio, come sta in Spagna. In realtà ve lo immaginate nel cuore della nostra città. Noi la nostra città ha il conservatorio, ha scuole di teatro, ha di tutti e di più per far sì che questo luogo possa funzionare. E proprio così, l'antico teatro romano di Teramo è il monumento archeologico più importante d'Abruzzo. Una volta riqualificato, tornerà ad essere fruibile come una vera arena all'aperto, per eventi e spettacoli. Una meraviglia!